A Roma fanno 40 gradi e la Topi Scala vuole fare una passeggiata di sabato pomeriggio per Trastevere. Come se dice a Roma, sta fuori con l'accuso, ma almeno fatela sottoterra. Non so se lo sai, ma circa 6 metri sotto di me ci sta una città sotterranea. Immagina che nei primi secoli dopo Cristo il cristianesimo non era visto di buon occhio. Non esistevano chiese, basiliche, ma i privati cittadini mettevano a disposizione le proprie case per celebrare le messe in incognito. E per non darne l'occhio, ma dare un punto di riferimento alla popolazione, fuori le case mettevano un titulus. C'è una lastra in marmo con scritto, questa è la casa di Tizio. Poi quando con Costantino ci fu libertà di professare la propria religione, vennero costruite le chiese molto spesso su queste stesse case, che prendevano il nome anche dal proprietario, che molto spesso veniva santificato. E questa, la chiesa di Santa Sabina, ne è un esempio. La prima cosa che si nota entrando in questa bellissima chiesa è sicuramente l'affresco, ma la seconda è l'altare, sotto la quale ci sta una riproduzione del martirio di Santa Cecilia. Santa Cecilia adesso è la protettrice dell'arte e della musica, ma nell'antica Roma era una matrona romana che sposò Valeriano e lo convertì a cristianesimo. Quest'ultimo fu cioccato e martirizzato. Mentre lei, dopo un po' scoperta a pregare per la morte del marito, fu anch'essa condannata. Provarono all'inizio ad affogarla dentro una vasca, ma sopravvisse. Così la condannarono per decapitazione, ma il boia la colpì tre volte senza alcun effetto. Poi dopo tre giorni di agonia, purtroppo, se n'è andata. Tornando alla nostra passeggiata, si passa per la sacristia, si scende di sei metri e si arrivano a delle antiche rovine romane, tra i quali ci sta una domus del secondo secolo dopo Cristo, che molto probabilmente era proprio la casa di Santa Cecilia. Tra l'altro si dice che in uno di questi corridoi ci sta la vasca dove è stata proprio martirizzata, ma la vera chicca qua sotto è questa cripta che è una chiesa sotterranea, che a colpo d'occhio te lascia senza fiato. Poi ti fai 300 metri rigorosamente all'ombra e arrivi davanti un altro antico titulus romano, ovvero la Basilica di San Crisogono. La prima cosa che si nota dentro questa chiesa sono le bellissime colonne in granito, che sono state depredate dalle terme di Settino Severo. La seconda cosa è l'affresco sul soffitto, che rappresenta la gloria di San Crisogono. E qui il karma è una brutta bestia perché questo è stato depredato dagli inglesi alla fine del 1700. Poi passando sulla sinistra dalla sacristia si scende di 6 metri e si arriva nell'ancor più antica chiesa di San Crisogono. Queste sono le rovine di una delle più antiche chiese della città. E quando si scende è bellissimo il colpo d'occhio nella differenza tra la chiesa nuova e la chiesa vecchia. Puoi girare in degli ambienti ancora perfettamente conservati, con mosaici risalenti all'ottavo secolo e poi soprattutto qua dentro faranno una ventina di gradi. Quando si torna in superficie hai diverse opzioni. Se vuoi fare un aperitivo ti consiglio il The Hall, per una birretta o una prosprizza con dei nachos. Se vuoi un gelato c'è sta ota leg qua dietro. E se vuoi mangiare invece ti scarichi l'app Mino Gira Magni e Bevi, te scegli un ristorante collegato alla passeggiata oppure vuoi vedere il ristorante più vicino alla tua zona. Tipo qua mi ha consigliato una pizza. Poi c'è sta il design tutto nuovo regà, è una figata.